Frequentare l'Arcivescovile significa anche partecipare a una serie di progetti che vengono offerti non solamente agli alunni ma anche alle famiglie. Infatti è partito da qualche anno un progetto magnifico, un progetto teatro, un progetto coro. Infatti sì, all'Arcivescovile c'è anche un coro formato dai ragazzi della scuola che cantano insieme ai loro alunni. Abbiamo poi una serie di collaborazioni con il Museo Storico della Città, il Museo delle Scienze Muse di Trento, il Museo Mart di Roveretto, molti progetti poi in collaborazione con l'Università di Trento, dall'Università di Sociologia fino all'Università di Matematica e di Fisica. Dedichiamo poi anche particolare tempo e importanza alle giornate particolari, ad esempio la giornata dedicata a Dante, il famoso Dante D, oppure la giornata della memoria e la giornata della festa del nostro patrono, Sant'Alberto Magno. Abbiamo poi una serie di collaborazioni con i quali appunto portiamo a termine i progetti che sono l'Associazione dell'Industriale di Trento, tutto il mondo della cooperazione, la Banca d'Italia e poi tutta una serie di progetti che coinvolgono i ragazzi per quanto riguarda l'educazione civica e alla cittadinanza. Ai genitori cerchiamo di offrire delle serate, serate particolari che riguardano l'educazione, che riguardano il rapporto con gli adulti ma anche con i giovani. Grazie a tutti.